Domani 15 settembre, alla riunione convocata dalla Direzione di Area Vasta 1, i sindacati pretenderanno il mantenimento degli impegni presi, ovvero il pagamento del cosiddetto premio Covid e anche degli emulamenti accessori legati alla produttività 2019 e 2018 che ancora non sono stati purtroppo pagati. Non sono stati pagati perché non sono state ancora ultimate le schede di valutazione del personale che sono obbligatorie oltre che necessarie nel pagamento presso una pubblica amministrazione. I dipendenti dell'Area Vasta 1 sono stati in prima linea a combattere il Covid, soprattutto nei mesi più duri di marzo e aprile e rispetto ad altri colleghi anche vicini nella stessa provincia, in particolar modo i dipendenti dell'azienda ospedaliere Marche Nord, ancora non gli è stato corrisposto quanto promesso. Promessa che era arrivata dal governo regionale intorno ai 1000 euro e poi sottoscritta con un accordo sindacale che ancora deve essere liquidata. In base alle risorse attualmente disponibili purtroppo di questo premio non ci saranno delle risorse ingenti ma solamente una piccola quota intorno ai 300-400 euro lordi a testa. Non pagarla comunque significa non riconoscere il ruolo di questi dipendenti nella battaglia del Covid. E' come dire a un dipendente tu non l'hai fatto, tu non c'eri. Questo è inaccettabile perché la professionalità, lo spirito di sacrificio dimostrato dai dipendenti dell'Area Vasta 1 non ha uguali anche al panorama nazionale. hanno rinunciato e mettendo a rischio anche la propria famiglia per essere in prima linea, nessuno si è tirato indietro, non riconosce loro, significa mortificare nell'anima oltre che non riconoscere la professionalità da sempre dimostrata. Noi questo lo chiediamo con forza, domani pretendiamo risposte, se non ci saranno delle risposte ci sarà la mobilitazione.